Tra il mese di febbraio e il 30 novembre 2020 sono stati diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale 1.651.229 casi positivi al covid-19 riportati al Sistema Nazionale di Sorveglianza Integrata dell'Istituto Superiore di Sanità entro il 20 dicembre. Lo rivela il rapporto relativo all'impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel periodo gennaio-novembre. Dall'analisi dell'Istituto lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. La prima, compresa nel periodo tra febbraio e fine maggio 2020, la prima ondata, si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel nord del paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre, fase di transizione, la diffusione è stata inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati i focolai sempre più numerosi in tutto il paese. A partire dalla fine di settembre, seconda ondata, i casi sono di nuovo aumentati rapidamente, con un ritmo esponenziale su gran parte del paese e solo da metà novembre si è osservato un calo dell'incidenza. Nella seconda ondata resta invariata la prevalenza della componente femminile, 54%, ma diminuisce la classe di età mediana dei casi, 45-49 anni rispetto a 60-64 anni, della prima ondata. Cala in percentuale il dato dei contagi registrato nella popolazione molto anziana, 80 anni e più, che passa da 26% nella prima ondata a 8% nella seconda. Tale diminuzione è verosimilmente in gran parte dovuta all'aumentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con sintomi meno severi. Nel periodo tra febbraio e novembre si sono registrati 57.647 decessi avvenuti in persone positive al covid-19, nel cui ambito è rimasta pressoché invariata la percentuale di soggetti in età inferiore ai 50 anni, che si attesta all'1% per entrambi i generi. La classe degli over 80 risulta quella con la percentuale più alta di decessi covid-19, il 60% dei decessi complessivi.